Si è svolta questa mattina la chiesa di San Filippo a Fossombrone, una conferenza stampa per presentare la graduatoria del bando pubblico relativo all'assegnazione di contributi ai comuni marchigiani. Un aiuto importante della regione Marche, utile per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche. Presente alla conferenza l'assessore regionale Francesco Baldelli, che ha parlato di risposta sistemica a un problema che i comuni segnalavano da decenni alla regione Marche. 4 milioni di euro per 11 comuni marchigiani, una risposta sistemica a un problema che i comuni segnalavano da decenni alla regione Marche, la necessità di recuperare un elemento identitario delle nostre città, dei nostri borghi, che insieme ai campanili delle nostre chiese o ai teatri storici dei nostri borghi, rappresentano un elemento in grado anche di destagionalizzare il turismo nella nostra comunità regionale. Questi 4 milioni di euro attivano anche una compartecipazione comunale che portano gli investimenti che verranno cantierati nelle prossime settimane a oltre 6 milioni di euro. Quindi un intervento particolarmente importante che in tre anni porta gli interventi diretti della regione a favore della filiera istituzionale a 90 milioni di euro. 30 milioni di euro all'anno stanziati dalla giunta a Quaroli a favore dei comuni marchigiani. Un senso di grande vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità cittadine. 4 milioni di euro per 11 comuni marchigiani, un contributo importante della regione per contrastare il degrado e valorizzare il patrimonio, lo dichiara il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni. Riuscire a contrastare il degrado sia una delle parti più importanti, di degrado ce n'è troppo e c'è poco motivo per venirlo a visitare, quindi il fatto di contrastare il degrado, contrastare quello che è l'abbandono è una parte fondamentale verso quel percorso che tende e deve tendere a migliorare e valorizzare quello che abbiamo, cercare di valorizzare il grande patrimonio credo che sia una delle cose più importanti sulla quale dobbiamo confrontarci e quindi sono enormemente contento di questa opportunità.